Inizia a cantare e suonare giovanissimo nelle valere e nelle feste paesane. Il suo esordio televisivo avviene a Telemonte Penice. Ospite del programma Controtestata condotto da Daniele Piombi e curato da Ruggero Mutarini. Che ne apprezzano subito la bravura e col tempo Musiani diventa ospite fisso. Qui lancerà i suoi primi successi. Negli anni Ottanta lavora anche a Topo 43. Un emittente di Pavia, nel programma gioca con una canzone. Condotto in studio da Rossella. Il suo primo show televisivo è su Videocomo. E si intitola semplicemente Musiani Canta. Poi fa parte, con Rosanna, del cast del mitico Il Bingo presentato da Renzo Villa su Antenna 3 Lombardia. È stato ospite per molte serate a Televerbano. L'emittente di Laveno Mombello, va, è la volta poi di Antenna Padana. Dove lavora in liscio non ti lascio di dedicatamente. Condotto da Franco Romeo su Telenord Italia. Ma Musiani è molto noto anche sulla Riviera Romagnola. Si è esibito infatti molte volte nell'ambito del programma Cult di V. G. A. Telerimin in Sir per la Romagna. Condotto da Marco Magalotti. E in altre rinomate località italiane. Negli anni Novanta di Rada le sue apparizioni in TV ma continua a vendere dischi e ad effettuare. Concerti con grande successo. A farlo rientrare in video sono Marco Predoline e Roberto Poletti nei programmi Fanta Liscio. Ballo in piazza e tutta un'altra musica su Tele Lombardia e Antenna 3 Lombardia. Nel nuovo millennio ritorna richiamato come ospite fisso da Eugenio Bana Tele Lombardia. Prima, è a Canale 6 ed Antenna 3 Lombardia. Poi, è fra i mattatori di festa in piazza e di altre trasmissioni delle emittenti di Sandro Parenzo. Ha inciso album accompagnato da un coro di Alpini. Album discografici di Stornelli e un album di canti e canzoni di Natale. Nella sua carriera ha venduto milioni di LP il più famoso dei quali è Chitarra Vagabonda che ha superato il 3,5 milioni di copie in tutto il mondo. Altri suoi classici sono Lauretta Mia. Suona chitarra, Cimitero di Rose, Piccolo Fiore, Piccola Vagabonda e Madonnina dai Riccioli d'Oro. Negli anni 90 ha ricevuto anche un disco d'oro negli Stati Uniti d'America per il brano T. Voglio bene mamma ed è stato portato sul palco del Madison Square Garden da Maurizio Costanzo.